Quello che sta passando ora è probabilmente il sarago più grande che ho mai visto sott'acqua, ma la gopro si è staccata e se mi muovo farò rumore. Il sarago è più di 4 metri da me, non so cosa fare, sparo o aspetto? Dopo qualche tuffo senza vedere neanche un pesce, arrivo finalmente ad una zona buona. In questa zona ci sono infatti un paio di scogli affioranti che vale la pena esplorare con molta cautela. Qui mi piace sempre fare dei passaggi tra gli scogli per vedere se dall'altra parte posso trovare qualche pesce che sta mangiando. Di solito, quando mi sporgo da questo scoglio, c'è sempre qualche sarago che sta mangiando lungo la parete, ma oggi non è così e intravedo solo delle salpe e dei cefali che però sono troppo piccoli per essere presi in considerazione. Uno sguardo a destra, uno a sinistra e capisco che non è il caso di continuare ad aspettare il pesce qui. È meglio salire in superficie e riprovare un poco più avanti, tra i due scogli che vedete in superficie. Mentre sono in superficie a prepararmi per un altro tuffo, dei cefali mi passano vicino e non sembrano spaventati. Devo immergermi subito senza fare rumore ed è l'unico modo per sperare che tornino incuriositi. Appena scendo mi ritrovo davanti ed è un tiro che è difficile sbagliare. Il pesce si muove in maniera scomposta perché l'ho preso sulla colonna vertebrale. A questo punto è praticamente morto. Gli do il colpo di grazia per non farlo soffrire e continuo a pescare, rimanendo nello stesso punto. Qualche metro dopo, infatti, il fondale scende repentinamente e al di là degli scogli si possono trovare dei saraghi. Però questa volta la banea è molto bassa e decido di non proseguire avanti, bensì di tornare indietro e fare tutto il percorso in immersione. Cosa ci sarà al di là degli scogli? Di solito qui si trovano dei grossi saraghi, anche se spesso sono parecchio furbi ed è difficile prenderli. Un'occhiata a sinistra, una a destra e poi a un certo punto lo vedo. Un sarago veramente grande che sta passando da destra verso sinistra. Ma mentre cerco di avvicinarmi, la maledetta telecamera si incaglia tra le rocce. E se mi muovo faccio troppo rumore e il sarago sicuramente se ne andrà via. A questo punto, anche se a 4 metri, decido di sparare. E come è prevedibile, il sarago scappa via. Maledetta GoPro! Maledetta GoPro! Mi si era incagliata sul fondale e non potevo muovermi. Continuiamo, va! Dopo un centinaio di metri c'è un altro punto buono che mi ha sempre regalato o un cefalo o un sarago. Si tratta di nuovo di dover scendere intorno a un masso affiorante ed aspettare i pesci sott'acqua. Non sto leggendo nel futuro, in realtà questi posti li conosco molto bene ed il pesce è molto abitudinario. Infatti, si trova sempre negli stessi posti. Mi aspetto sempre che da sinistra arrivino i cefali, ma in realtà è da destra che arriva un bel sarago. Stavolta, per fortuna, non l'ho sbagliato ed è anche più grande di quello che pensavo. Ricaricato il fucile mi accorgo che c'è un altro grosso sarago, ma stavolta decido di non scendere e continuare dritto. Arrivo ad un punto molto particolare. Qui il fondale da 30 centimetri arriva a 4 metri e c'è un grosso masso. Di solito sono passato a sinistra, ma oggi voglio provare ad andare a destra. Ando proprio sul masso, stando attento a non toccare i ricci e cerco di vedere un sarago. Infatti, questa è la zona giusta. Ma non c'è nulla. Allora, continuo con la mia immersione. Superato il masso, a questo punto guardo a sinistra, ma nulla se non un banco di castagnole. A destra, invece, si stanno avvicinando dei cefali. Allora mi immobilizzo e aspetto che vengano da me. Preso esattamente nello stesso punto del primo cefalo. Anche questo è un bel cefalo, magro ma molto lungo. Per oggi mi sa che è finita così. Infatti, dopo il terzo pesce, non ho più la concentrazione che avevo prima. Che sono soddisfatto. Comunque, ho fatto un giretto giusto per vedere se c'era qualche predato interessante. Ho visto i soliti cefali. E ho deciso che devono ritornare a casa. E noi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!